Mi consenta, ma è un'Italia che c'ha bisogno di ricette per queste pilloline antidepressive. Pensa e ansioso che non sei mai riposo, pensi che sarai sblocrato da un infante inaspettato. Pensa e azepina sono semplici, gocci ne sono e sono medici ne sono qui per te. Pensa e azepina per svegliarsi la mattina, se l'angoscia ti consuma il cuore e fa la maratona. Pensa e azepina per goderle l'autostima, la dottrina di gocci ne è del punto ok. Ansia, panico, paura, sarai. Tavo, tavo, miglior, sarai. Tornano il suo riso, ma gli svolgono col riso. Prendi tutta la leggera, anche se il vicino sclerà. Per mia mamma non va bene, a mio padre non conviene, ma mi fanno stare bene e io le comprerò.